Salvaguardare lo stato degli edifici cittadini e prevenire il rischio di crolli e cedimenti è l'obiettivo su cui è a lavoro il Collegio dei Geometri di Napoli e Provincia, che ha organizzato col patrocinio del Comune un corso di formazione sul tema. Decolla questa nostra iniziativa per dare fronte a questo grosso problema, il problema delle facciate è un problema che ci dà molti rischi e la cosa maggiore che va a essere un attimino riguardata bene è queste reti che mettiamo per fronteggiare queste cadute. Quindi daremo queste tre giornate di corso per dare dei suggerimenti ai nostri colleghi affinché si possa fare qualcosa di meglio. Una mappatura della città deve essere fatta laddove andremo a fare delle microzone con delle zone più a rischio e quelle zone meno a rischio. Una scheda di vita del fabbricato deve starci, deve esserci una ripresa delle facciate a tempo, un decennio, un quindicennio, bisogna farla. L'iniziativa presentata questa mattina in sala giunta con il sindaco Luigi De Magistris e l'assessore Ciro Burriello è stata l'occasione per illustrare azioni e proposte del Comune sulla messa in sicurezza degli edifici e sulla loro conservazione. A tal fine, ha annunciato il sindaco De Magistris, entro la fine dell'estate sarà approvata e presentata alla città la delibera sicurezza bene comune. Un lavoro strategico che sta facendo il Comune di Napoli con la città metropolitana, cioè quello di approvare una delibera che si chiamerà sicurezza bene comune, con cui affronteremo la sicurezza in città da ogni punto di vista, con misure concrete, in modo da mettere insieme cooperazione istituzionale, lavoro sull'edilizia privata e pubblica, strumenti amministrativi, strumenti finanziari e contiamo entro la fine dell'estate di approvarla perché siamo già in una fase molto avanzata. Dobbiamo iniziare a avere anche una mappatura dei rischi in città, logicamente sono più concentrati nel centro storico, ma anche nei centri storici periferici esistono delle situazioni di difficoltà. Una mappatura certo dei condomini privati perché resta comunque un fatto privatistico, ma comunque ci sono delle responsabilità a cui noi non possiamo sottrarci. È chiaro che è venuto il tempo in cui non possiamo più accontentarci di semplici dichiarazioni, ma come dire, starare con i condomini un dialogo sempre più serrato, questo per avere sempre la sicurezza degli edifici e soprattutto la sicurezza dei cittadini.